Musica Musica Michela una splendida vittoria ma che bella questa manifestazione con questa partenza è incredibile Bellissima guarda io sono una fans sfegatata della MotoGP quindi quando mi hanno portato nel circuito stamattina non ci credevo era come una bambina piccolissima con il suo gioco nuovo e comunque una manifestazione veramente bella peccato che abbiamo preso un po' d'acqua però è da rifare per noi è stata la prima volta comunque una bellissima gara veramente complimenti all'organizzazione Michela abbiamo detto tante volte per te il ciclismo è passione è un secondo lavoro è anche amore è tutto Sì sì è proprio tutto per me è un grandissimo viaggio un viaggio alla ricerca di te stesso poi alla fine è vero mi piace mi piacciono gli allenamenti mi piace far fatica quindi ho trovate lo sport giusto per me Grazie.